Come sempre per le feste natalizie, immagino anche oltre un calendario ricco di eventi, a Valbundione che cosa c'è in programma? Esatto, innanzitutto buongiorno a tutti, auguriamo a tutti buone feste e vogliamo ricordare appunto il nostro calendario eventi, ricco anche per l'inverno. Iniziamo con ricordare giovedì 24, Babbo Natale in Contrada, Babbo Natale partirà da Lizzola per incontrare i bambini, proseguirà a Fiume Nero e per finire all'oratorio di Valbundione dove faremo merenda in compagnia di Babbo Natale. Altro evento che vi consiglio di non perdere, sabato 26 dicembre, lo spettacolo Sabbie e Luminose. Gli spettatori resteranno incantati da come l'artista riesce a raccontare delle storie natalizie con dei disegni di sabbia a ritmo di musica alle ore 21 presso la sala polifunzionale. Per questo periodo natalizio intratterremo i nostri turisti con diversi eventi appunto, vi ricordiamo la possibilità di fare il giro in calesse per le vie del paese sia a Valbondione che a Lizzola. A Valbondione i giorni 30 e 31 dicembre, a Lizzola i giorni 2 gennaio. Poi evento a cui non si può mancare a Valbondione è il presepe vivente nella Contrada di Fiume Nero dove verrà rappresentata la natività e gli antichi mestieri lungo le vie dell'antico borgo di Fiume Nero. I giorni 28 e 29 dicembre e anche l'arrivo dei Re Magi il giorno 3 gennaio. Vogliamo ricordare che era previsto in programma l'evento Giassenef, sculture di neve a Valbondione. Però a malincuore abbiamo preso la decisione di posticiparlo a fine gennaio, i giorni 29 e 30 e 31 gennaio a causa delle condizioni meteo che purtroppo non ci hanno favorito. Ricordiamo che sono in programma anche i concerti a Valbondione, i tradizionali concerti natalizi, il 27 nella chiesa parrocchiale, il 27 dicembre nella chiesa parrocchiale di Vondione, il 30 gennaio nella chiesa parrocchiale di Lizzola e il 3 gennaio in quella di Fiume Nero. Vi consigliamo di seguirci su Facebook, in cui Facebook Turismo Valbondione vi terremo aggiornati su tutti gli eventi e sul nostro sito www.turismovalbondione.it. Cogliamo l'occasione ancora per fare gli auguri di buone feste e di buon soggiorno a Valbondione.